Lei si sente una persona straordinaria oppure no? No, io veramente... Spesso lei ha detto, mi sento un verme di terra. No, mi sento un verme di terra. Io sono una poveraggia, io so che cosa penso. Forse sarà una malattia a cui si manifesta il Signore attraverso questa malattia di poter fare bene all'umanità, alla gente che soffre. Io non mi sento niente, proprio niente. Come un mostro. Mi avete detto che sono una truffatrice? Tutti si stanno divertendo ad andare nelle televisioni. Una volta dicono che sono scappata. Una volta stanno per arrestare mio marito. Una volta dicono che sono fuggita con milioni di euro. Sono qui. E intendo stare qui, insieme alle persone che ci vogliono bene. E intendo continuare a pregare in questo luogo. Benedetto Natio! Non mi arretro, ma neanche di un millimetro. Perché sono nella casa di Dio! Grazie! 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 Grazie a tutti.